Alla Fiera degli Sposi Montecatini 2015 siamo insieme al Catering N20 Aliente di Via Tarantelli a Sesto Fiorentino. Allora intanto buonasera a Carolina e Francesco che sono i responsabili e sono qua accanto a me. Voi fornite un servizio a 360 gradi per gli sposi perché fornite non solo il catering ma anche un qualcosa molto molto di più. Ce lo racconta? Sì è una nostra caratteristica organizzare un evento dall'A alla Z quindi tutto il catering, banqueting, pasticceria interna, organizzazione, allestimenti floreali e tutto quello che serve per comporre un evento. Noi facciamo progetti con gli sposi, realizziamo il loro progetto, il loro sogno. È bello poter dire che realizzate veramente un sogno anche perché magari ci sono coppie che hanno già le idee chiare e coppie che invece si lasciano influenzare e hanno necessità di qualche idea, giusto? Noi cerchiamo di aiutare, di realizzare chi ha già le idee, quello che ha in testa, nell'altro caso che è anche abbastanza diffuso di tirare fuori i loro gusti perché esistono, esistono e noi siamo lì per aiutarli. Non li vogliamo assolutamente influenzare ma aiutare nella scelta migliore che serva poi a realizzare un matrimonio stupendo. E noi siamo sicuri che da Aliant e Catering and Eventi di Via Tarantelli a Sesto Fiorentino i sogni diventano realtà. Quindi Carolina e Francesco vi aspettano a Sesto Fiorentino, Aliant. Grazie, grazie a voi.